bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate in questi pochi minuti parleremo di cose davvero interessanti perché ieri se non ricordo male o l'altro ieri è stata fatta un'intervista a donald mustard vi ricordo il ceo il capoccia di tutto il team di epic games che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero molto interessanti riguardanti il futuro a lungo termine di fortnite vedremo anche nuovi oggetti scoperti leaks e ancora marvel prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio un oggetto che è stato trovato decryptato nelle ore di ieri pomeriggio ed è il fire extinguisher non so se l'ho pronunciato bene ma è chiarissimo a tutti quello che è un estintore se i ragazzi è proprio un estintore e voi dite che cosa ci dovrà fare questa cosa è un'arma no è un estintore io credo siccome non abbiamo assolutamente informazioni a riguardo di questo oggetto che verrà introdotto non sappiamo quando nel gioco immagino che possa servire per contrastare ad esempio l'effetto della palla del doctor doom oppure dei barattoli incendiari quelli che succedono quelli che sono di quelli delle lucce non è quelli che raccogliamo potrebbe essere questo non ci trovo un'altra un'altra funzionalità non so neanche se verrà messo nello slot delle armi però aspettiamoci di vedere anche questa nuova implementazione in game e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché oggi è uscita baba yaga questo video registrato prima dell'uscita dello shop ma dovrei averci azzeccato una delle skin di questo fort nightmare 2020 personalmente mi piace davvero tanto molto molto carina baba yaga una specie di strega come vedete c'è una curiosità su questa immagine che la ritrae qualcuno ha fatto degli zoom in queste lucciole che vedete di colore giallo e non sembrano essere le stesse lucciole che siamo abituati a vedere in game non ci sono comunque degli elementi che possano dichiarare la diversità in game quindi nei file di gioco per adesso le teniamo così molto carina questa skin e voglio ricordarvi che sono uscite tutte le skin del fort nightmare 2019 anche quest'anno tranne la banana sbucciata quella che per metà è scheletro ed ha un ballo integrato quella ancora non è presente potrebbe rimanere un'esclusiva dell'anno scorso andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come vi anticipavo donald ha rilasciato una lunga intervista dove ha spiegato un pochettino i progetti di fortnite per quanto gli sia stato possibile ed ha cercato di rispondere alle domande dei giornalisti come vedete nel background vi sto facendo vi sto facendo vedere galactus che deve essere il punto centrale di questa season e lo diventerà lo abbiamo visto anche nel trailer quindi e soprattutto anche nel titolo della stagione 4 del capitolo 2 la guerra per il nexus quindi come sapete sono gli avenger che dovranno combattere galactus e se traducete con attenzione questa frase di donald riassume che il galactus in realtà era programmato per l'uscita su fortnite già dalla season 1 del capitolo 2 quindi stiamo parlando addirittura dopo il buco nero già sapevano che sarebbe dovuto uscire già era pronto un anno fa e hanno aspettato ben tre stagioni lunghissime prima di portarlo in game questo perché questo perché come sappiamo happy games è sempre avanti un anno ma quello che state vedendo in questo momento è l'argomento più importante del video di oggi perché donald ha detto che molto probabilmente vedremo modo che ragazzi che è un super cattivo marvel vi voglio leggere la sua storia george tarlenton era uno scienziato delle avanzate idee meccaniche a him vi ricorda qualcosa che venne trasformato dagli scienziati delle organizzazioni nel super intelligente modo mental organism design only for computing il suo compito era studiare e migliorare le potenzialità dell'artefatto noto come cubo cosmico e anche qua un'altra assonanza ma diventato ambizioso tarleton uccise i suoi padroni e presi il controllo del lime ribattezzatosi modok il suo primo avversario fu capitano america impegnato a salvare l'agente shield sharon carter rapita dall'organizzazione modok diventa un nemico ricorrente per capitano america combattendo l'eroe più volte ma si scontra anche con namor e con il dottor destino per il possesso del cubo cosmico nel tentativo di distruggere hulk modok rapisce betty ross trasformandola nell'arpia la ragazza e l'alter ego del gigante di giada bruce banner fuggono su di un nido fluttuante dove lo scienziato riesce a curare dal suo stato betty modok li raggiunge insieme alla squadra del lime arrivando in tempo per uccidere il guardiano la bibestia ma attivando un meccanismo di autodistruzione che costringe tutti a fuggire successivamente in modo che accetta l'offerta di essere ultradimensionale noto come lama nero partecipando alla guerra dei super criminali ma non riesce a vincere il premio quando viene sconfitto da ironman come vedete ragazzi ci sono tantissime assonanze con la storyline con quello che abbiamo visto con quello che stiamo vedendo e con quello che probabilmente continuerà a connettersi donald dice sempre è tutto connesso sia dalla season 1 che dalla season 2 e questa continua a confermare ciò che dice quindi ragazzi staremo davvero a vedere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi e chiarificarvi una cosa lo lo school dancer io ho solo in mente in italiano in inglese non me lo ricordo in italiano rimarrà nello shop fino al 2 novembre quindi perché è importante sapere questa cosa perché il 31 ottobre ore 22 italiane sul party royal nel main stage ci sarà il concerto dj balvin's questo signor qua questo ragazzotto qua partecipando all'evento al concerto otterremo tutti uno stile personalizzato per il il teschio per lo school dancer però ragazzi attenzione lo stile lo ottengono solo quelli che lo hanno acquistato visto che mi state chiedendo ma mi danno la skin anche se non l'ho acquistato no devi averlo acquistato partecipare al party e quindi ottenere lo stile questo per chiarirvi le idee e prima di salutarvi molto velocemente sembrerebbe che dalla prossima patch mida invariante fortnight mars potrebbe diventare una skin giocabile le voci sono ancora un pochettino confuse quindi ve la butto lì senza che la prendiate come veritiera come cosa ma diciamo che se ne sta parlando molto molto e tra l'altro è già una skin preparata quindi non vedo perché non buttarlo dentro e farlo diventare un personaggio giocabile insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando un bel like iscrivetevi ai miei canali e mi trovate in live su twitch ciao